Si è svolta a Teramo la cerimonia di consegna del premio speciale per una raccolta di racconti edita nell'ambito del premio Teramo. Il premio è andato a quel giorno, quell'anno di Antonio De Benedetti. Questa iniziativa porta con sé due novità nell'ambito proprio del premio Teramo. Quali sono? Diamo che le novità essenziali sono appunto, come diceva lei, due. Da un lato c'è questo premio speciale che si riferisce al racconto, quindi c'è una continuità ideale e sostanziale con il racconto in quanto modalità di narrativa, di scrittura narrativa, da un lato. E qui diciamo un legame naturale e antico con il premio Teramo che premia appunto il racconto inedito. Ma accanto a questo si lega il racconto anche a ciò che intorno al racconto si muove nel campo editoriale. Di qui appunto il primo speciale per una raccolta edita di racconti. Erano tre i finalisti, ma il vincitore è stato poi decretato da una giuria, chiamiamola così speciale. Come siete arrivati all'individuazione di questo libro? Intanto diciamo l'alterna di raccolte edite è stata formulata, indicata dalla giuria del premio Teramo. Anche per circoscrivere naturalmente e anche organizzativamente la possibilità che la giuria popolare potesse muoversi. La giuria popolare è un tentativo di coinvolgimento di ambienti e di persone che in genere non sono sempre così coinvolte all'interno del primo termo. E quindi mi riferisco sicuramente agli studenti, circa metà dai giudici popolari della provincia di Teramo, di quasi tutte le scuole della provincia di Teramo, che sono state indicate dai rispettivi presidi, da un lato. Dall'altro i cosiddetti lettori forti, che sono stati indicati dalle librerie funzionanti all'interno della nostra provincia, a Teramo, a Giulianova e a Roseto e gli Abruzzi. Un ultimo gruppo di giurati popolari è stato invece indicato dalla Biblioteca Delfico sulla base evidentemente delle loro statistiche di lettori, privilegiando quei lettori forti che si occupano e seguono soprattutto la narrativa. De Benedetti ha collegamenti importanti con Teramo. Sì, poi il caso ha voluto per così dire che il premiato sia Antonio De Benedetti, che oltre che essere una bellissima e importante firma di un giornalista letterario del Corriere della Sera ed essere un autore tra i più apprezzati nel panorama narrativo italiano, scrittore di racconti e di romanzi, anche premiati nazionalmente in importanti selezioni e premi, però è anche il figlio di Giacomo De Benedetti, un signore ora matura di una certa età, figlio di Giacomo De Benedetti, che sarà uno dei primissimi giurati apprezzatissimi e legatissimi a Teramo, Giacomo De Benedetti, al cui nome è intitolato uno dei premi riservato a uno scrittore giovane sotto i 35 anni del primo teramo stesso. Quindi, come vedete, c'è una doppia cifra, l'innovazione, la giuria popolare, questo legame ideale, morale, civile, ma anche umano, mi permetto di dire, tra il vecchio primo teramo e il nuovo premio teramo che si sta strutturando nelle modalità, che le dicevo.